Spending review sulla sicurezza. Martedì prossimo a Roma si terrà l'incontro con il ministro degli interni Angelino Alfano per i dieci presidi di polizia a rischio nelle marche. Con la razionalizzazione delle spese nel comparto sicurezza, infatti, il governo ha stabilito tagli sia nella polizia sia nei carabinieri. Se però non sono ancora note le compagnie e le stazioni dell'arma che verranno soppresse, i numeri dei presidi della polizia che dovrebbero essere cancellati sono già noti. Si tratta del commissariato di Osimo, le sedi della polstrada di Porto Recanati, che è un distaccamento, e Amandola, la Polfer, ovvero la polizia ferroviaria di Falconare e Fabriano, le sedi della polizia postale di Macerata, Ascoli, Pesaro e Fano, per quest'ultimo si tratta di un distaccamento, infine il gruppo nautico di Ancona. Se da un lato c'è chi guarda di buon occhio una ridistribuzione delle professionalità, dall'altro resta la paura che gli agenti che al momento operano nelle sedi che verranno smantellate possano essere trasferite fuori regione. Sulla riorganizzazione del sistema sicurezza era intervenuto anche il presidente della regione Marche, Gian Mario Spacca, che aveva scritto una lettera ad Alfano in cui aveva sottolineato al ministro degli interni la necessità di mantenere alta l'attenzione sul territorio, chiedendo anche un incontro.